Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. Allora guardate che le accise non sono noccioline, sono esattamente 12 miliardi, non 12 milioni, 12 miliardi in più, ma come no? No, guardi, sta parlando con uno che fa i conti tutti i giorni. Lo sa fare anche un bambino di terza media, 40 miliardi di litri per 30 centesimi va a 12 miliardi, uno. Ma lei parla di tutte le accise, vabbè, stiamo parlando di tutto. Sto parlando dei 30 centesimi di accise che avete aumentato. All'abbattimento della cise, 2 miliardi, 2 miliardi, 2 miliardi, 2 miliardi, 2 miliardi, 2 miliardi. Allora lei non lo sa, è stato fatto un altro conto.